Per sistemare il Codivilla Putti serviranno 3 milioni in più. L'ospedale Ampezzano, per il quale si cerca tramite bando un nuovo gestore privato, è al centro di un progetto di rilancio da 35 milioni, anzi 38. Infatti Selina e li investirà 15 milioni per l'adeguamento del padiglione Putti, di proprietà proprio del soggetto previdenziale, per il padiglione Codivilla non basteranno i 20 milioni preventivati dalla regione. La previsione di spese infatti aumenta di 3 milioni a seguito di un'indagine sulle strutture, che ha evidenziato la presenza di solai inadeguati sotto il punto di vista statico, con difetti geometrici e travi di sostegno degradate. Inoltre le armature metalliche sono corrosi in alcuni punti e dagli stessi solai si stanno staccando parti di intonaco. Altro fattore che aumenta il grado di complessità dell'intervento, l'eterogenità delle strutture dovute a rimaneggiamenti non riportati nella documentazione tecnica. Per questo i 3 milioni aggiuntivi serviranno per sostituire porzioni dei solai di due piani, per la rimozione delle coperture linee, per un intervento sui manti di copertura e persino per il rifacimento di tratti di murature portanti.